Helium, ibrido di classe 500, 127 giorni, un ibrido assolutamente adattabile, con un'adattabilità elevata tipica della genetica artesian, una genetica che ci consente di ottenere costantemente elevati livelli di produzione in tutte le condizioni ambientali, proprio perché è estremamente tollerante agli stress termici e agli stress idrici. Quindi un ibrido che può essere seminato in tutte le situazioni aziendali, di fertilità di terreno, di condizioni ambientali, di temperature e di umidità. Un ottimo ibrido in primo raccolto per tutte le situazioni, per chi vuole raccogliere precocemente una granella estremamente sana e con un basso tenore di umidità, adatto anche a tutte le semine di secondo raccolto, proprio perché esprime al meglio tutte le sue potenzialità produttive, anche in situazioni di stress termici e idrici tipici dei secondi raccolti. Idro, ibrido appartenente alla genetica artesian, classe 600 e 130 giorni, pianta ad elevatissimo potenziale produttivo, ottima sanità, ottimo stay green, ottima adattabilità ambientale. Stay green e foliosità ci danno la possibilità di utilizzare questa pianta tra la produzione di trinciato sia di primo che di secondo raccolto. L'elevata produzione di granella ci permette di aumentare la concentrazione di amido all'interno della massa verde prodotta e quindi energia all'interno del trinciato che poi andremo ad utilizzare nella nostra stalla oppure nell'impianto biogas. Grazie a tutti.